Prima di tutto un taglio del nastro e un plauso ai tre Rotary Club di Varese che hanno donato all'Aeroclub Adele Orsi di Calcinate del Pesce un montascale utile a favorire atleti e visitatori in carrozzina. Dopodiché l'attenzione di chi ama il volo, il contatto con il cielo, con la natura e con il silenzio dei sogni e dei pensieri si è concentrata sulla ricca agenda snocciolata dalla presidente Margot. Si comincia domani con il campionato nazionale che concentrerà decine di talenti per due weekend. Il campionato italiano 15 metri Coppa Città di Varese e il campionato italiano promozione prenderanno il via domani e saranno strutturati, contrariamente a quanto predisposto nel mese di maggio, sui due weekend per cercare di favorire l'affluenza di concorrenti. Siamo contenti di poter ospitare questi due campionati italiani che non si erano potuti svolgere quest'anno in altra sede e così salviamo anche una bella parte della nostra stagione volovelistica. Si prosegue mercoledì quando a Calcinate approderà da Fano un ultraleggero guidato da un pilota senza un braccio, complice alle innovazioni tecnologiche messe a disposizione degli apparecchi e dei suoi tanti appassionati. E per concludere l'Open Day del 20 settembre. Sarà un pochino diverso rispetto agli Open Day degli altri anni perché dovremo seguire un protocollo molto severo ovviamente per il Covid ma non vorremmo proprio rinunciare ad aprire le porte del nostro club per far visitare l'aeroporto, il nostro meraviglioso museo e per fare provare l'ebbrezza del volo a chi lo vorrà fare. Grazie a tutti.